salve a tutti i ragazzi e bentornati sul mio canale in questo video andremo a vedere come si raggiungono le vette dei giganti la montagna più al nord che c'è nel gioco il primo passo è riuscire a entrare nella capitale e per farlo ci servono le due rune maggiori le otterremo da godrick e da radan sono due boss a cui ho già dedicato dei video su come su come batterli e bisogna assolutamente batterli proprio per le due rune affinché possiamo andare avanti non solo dalle vette dei giganti ma anche nella storia per poter finire il gioco ottenute le due rune maggiori dalla capitale ci separerà solamente una sentinella draconica e anche essa ho dedicato un video su come ucciderla semplicemente con il veleno dentro la capitale ci saranno solamente altri due boss godfrey e morgot una volta abbattuti anche loro si potrà finalmente raggiungere la vetta dei giganti in descrizione troverete tutti i video che ho dedicato ai vari boss per poter raggiungere la vetta dei giganti e poi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.